luca giurato compilation era un video presente qui su youtube ma purtroppo oggi non è più presente perché probabilmente vi lo vedo il copyright era un video in cui erano presenti diversi spezzoni delle gaff chiamiamole più belle di luca giurato quelle in cui riusciva veramente a divertire in modo totale in modo completo l'allegria il brio la comicità l'inonia sottile e sempre presente in ogni singola gaff del grande luca giurato si avvertono con grande distinzione la compilation si è sempre ascoltata bene abbiamo sempre riso secondo la mia opinione grazie alle gaff di giurato luca un personaggio mito un personaggio eclettico un personaggio vulcanico euforico ma soprattutto un buono di cuore una persona di cui potersi fidare veramente sveglia svelta allegra briosa ma soprattutto una persona che sa sempre essere buono non è una persona cattiva in quella compilation di questo video che purtroppo ripeto non è più presente su youtube siamo al primo di ottobre del 2015 si vede appunto tutto quello che può essere detto su giurato o meglio una raccolta delle sue gaff più belle delle sue gaff più divertenti beh che dire ancora oggi ho la mano in bocca ma tra i tanti gaff lasciatemi ricordare qualcuna per esempio chiedo scudo al prossimo chiedo scusa oppure a praffoco per dirà fra poco oppure ancora tra i tanti ricordi che ho fatemi pensare bene ho il piacere di avere il grande piacere di insomma tantissime neanche debbi compiute durante la superia trivisa il buon luca giurata a cui veramente mando un affettuoso saluto e un abbraccio vi trovo qua ciao ciao ciao